Un viaggio nel passato per gli ospiti del Camelot di Gallarate alla scoperta della città dei Due Galli dagli anni 30 agli anni 70 attraverso filmati e aneddoti dell'ex presidente di 3SG, oggi consigliere Carlo Bonicalzi, e alle passioni del Papa Antonio, vissuto oltre un secolo. Per esempio era appassionato di treni, appassionato del Milan, appassionato di musica classica e ha iniziato a fare il 16 mm mutuo ovviamente negli anni 30. Sono una serie di filmati, ci sono appunto da inizialmente tentativi di volo alla Capronia, sfilate durante il periodo fascista, ci sono processioni perché mio papà era un cattolico abbastanza fervente. E ancora dal passaggio del Giro d'Italia negli anni 30 alla fondazione della Società degli Studi Patria Gallarate. L'incontro con Bonicalzi è avvenuto nell'ambito dei giochi Camelot 2023. Una manifestazione dedicata agli ospiti e familiari ai quali cerchiamo di regalare dei momenti di leggerezza. Stiamo tornando a una normalità che sembrava scontata e che invece riprendere tra le mani non è facile. Questi giochi di Camelot veramente stanno aprendo a questa normalità finalmente.